non prendo pace no 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 non prendo pace io credo che d'ora in avanti il giorno dopo il giorno seguente ad una forte cosciente delusione se vogliamo una sconfitta come in questo caso l'eliminazione della CEMS forse io è bene che spenga tutto spenga tutto non legga nulla 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 e me ne stia quieto il letargo il letargo perché altrimenti mi sale mi sale il sangue agli occhi mi sale il sangue agli occhi lo sfottò lo posso anche accettare come accetto i classici commenti dal tifoso medio che arrivano dalle tifoserie avversarie quello lo si può accettare classico comment avete perso contro il il Barcellona Z contro la cantera contro la cantera contro i ragazzini che sono andati lo posso lo posso anche accettare anche perché poi nessuno fa un'analisi corretta nessuno ha un pochettino di riguardo e magari va a vedere un po' come sono andate le cose va a vedere che se prendiamo un a caso del Barcellona Rakitic Rakitic che ieri ha giocato partita da maestro un maestro in campo va a vedere che Rakitic da solo compensa a tutta l'esperienza dei giocatori dell'Inter messi insieme lui da solo ha più presenza di tutti i giocatori dell'Inter messi insieme solo Rakitic solo uno solo uno tralasciando Vidal tralasciando Griezmann un TT e compagno solo solo Rakitic da solo compensa tutta l'esperienza che possono avere i giocatori dell'Inter messi da solo cantera poi andiamo da vedere questi giocatori della cantera anche perché dalla cantera del Barcellona in passato abbiamo assistito a gente come Iniesta Schiave quindi dalla cantera del Barcellona vengono fuori giocatorini abbastanza decenti leggermente decenti e questo come si chiama infatti mi pare che si sia inventato un gol che poi cantera o non cantera è un gol che gli vuoi dire che gli vuoi dire o cantera o non cantera che gli vuoi dire col gol che ha fatto che gli vuoi dire bravo forte applausi cantera e non cantera cantera e non cantera ma ripeto è lo sfottò del tifoso medio è lo sfottò che comunque ci può stare non è non è offensivo per cui lo accetti lo devi accettare te lo devi far scivolare addosso questo è il calcio amici miei ma 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 e dico ma sentire i tifosi interisti i tifosi interisti sentire vedete gente che scrive ridatemi spalletti ridatemi i card io a questi qua gli svaliggerei la casa gli svaliggerei la casa questi qua metaforicamente parlando perché non sono un criminale come loro perché chi scrive questo è un criminale è un criminale da tastiera è un criminale da tastiera se gli dai questo quello a conte come è che abbiamo lo stesso risultato ma che state dicendo ma cosa state dicendo questi sono criminali patentati ma cosa cioè e poi sono io poi sono io sono io che non ti fa it io non ti fa it io io non lo so io non lo so gente che sta lì che ti aspetta all'angolo aspetta all'angolo un passo falso per poter rivendicare ma guardate avanti non guardate al passato guardate avanti se siete veri tifosi dovete guardare avanti e non stupido rivendicare spalletti i card avete rotti i coglioni avete rotti i coglioni perché voi non ti fate inter e accusate gli altri avete rotto i coglioni spalletti i card ma guardiamo a questa inter è una squadra solida una squadra che con gente come Biraghi Borcavalero Vecino Lazaro che non sono scienziati sta sta due punti avanti ad una Juventus stratosferica stratosferica perché poi si tende sembra a sminuire il valore degli avversari siamo davanti alla Juventus due punti davanti con una squadra normale normale con una squadra normale perché spesso spesso tendiamo a esaltarci ma bisogna capire quello che siamo per dare giustizia a quello che stiamo facendo e dovete cercare di capirlo cazzo dovete capirlo perché è facile così alla prima occasione sputare è facile è facile troppo facile troppo 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 facile troppo con giocatori normali Biraghi Borcavalero Vecino Lazaro cosa ti deve fare che è Remila che trasforma la merda in oro che è Remila cose dell'altro mondo con 38 punti in campionato con un girone che l'hai fatto egregiamente che sei uscito per mancanza di maturità per mancanza di esperienza che questi giocatori non hanno punto questi giocatori non ce l'hanno l'esperienza punto perché una squadra esperta questo girone l'avrebbe passato nonostante stiamo ballando è una squadra normale perché c'è gente che pensa che questa squadra si sia rinforzata in un modo ultraterreno adesso siamo i più forti di tutti i palladini della giocatori no siamo una squadra normale siamo una squadra normale e grazie a Conte siamo uniti siamo combattivi e riusciamo a sopperire a tutte le lacune ma non rompete i coglioni alla prima occasione non rompete i coglioni non rompete i coglioni mamma mia perché ripeto posso capire lo sfottò delle tifoserie altrui lo posso anche accettare ma se siamo noi stessi a farci del male da solo andatevene a fanculo tutti quanti per favore uno a uno e poi però non venite a dire che sono gli altri che non tifano l'Inter non venite perché siete voi siete voi il malanno nera su siete voi siete voi bene Grazie a tutti.